Il Presidente Zai ha presentato l'annunciata nuova ordinanza regionale in vigore da sabato contro gli assembramenti, provvedimento condiviso anche dal Ministro Speranza. A un anno esatto dall'acqua alta che ha devastato Venezia, ripercorriamo le tragiche ore di quella notte e dei giorni seguenti con immagini che il mondo intero non dimenticherà mai. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nominato poi commissario delegato alla gestione dell'emergenza, fa il punto sui risarcimento e ricorda come visse la notte dell'acqua granda. Le testimonianze dei veneziani che subirono gravi danni dall'acqua granda del 2019, molti pensavano di non farsela, ma oggi le loro attività hanno ripreso a lavorare. Positivo al tampone doveva essere in isolamento, invece un cittadino cinese di Nuale ha pensato di recarsi al ristorante di sushi e è stato denunciato dai carabinieri. Acquistati 19 bus elettrici per il Lido a Pellestrine e più altri 8 a Metano, per la terraferma il progetto più atteso è sicuramente quello degli autobus completamente elettrici nell'ex Isola d'Oro. Alle 21.15 di questa sera Tenatevi riproporà l'Apocalisse di Venezia, il documentario prodotto dal gruppo Media Nordeste che ripercorre i drammatici giorni dell'acqua alta di un anno fa. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, dunque l'avete sentito ora dai titoli, il Presidente Zaia ha presentato l'annunciata nuova ordinanza regionale in vigore da sabato contro gli assembramenti, provvedimento condiviso anche dal Ministro Speranza. Sentiamo. Io non la vedo come un atto d'imperio e la vedo anche un po' come un fallimento, no? Cioè dovere scrivere un'ordinanza sapendo che la stragrande maggioranza di veneti si comporta bene. Questa è la premessa del Governatore Zaia, l'ordinanza in vigore da sabato fino al 3 dicembre è concordata con i colleghi di Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia per contrastare con ulteriori misure gli assembramenti visti lo scorso weekend. Ribadito l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa, il nuovo provvedimento consente lo svolgimento di attività sportiva, motoria, le passeggiate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, mantenendo sempre la distanza di sicurezza e in ogni caso al di fuori di strade e piazze del centro storico delle città e località turistiche. L'attività motoria, la passeggiata, la corsetta si vanno a fare nelle aree periferiche, non si va nei centri abitati e questa è una preghiera che facciamo i cittadini. Non si va a fare la vasca, lo struccio nei corsi principali, non si va al mare per andare ad affollare le spiagge. Regolamentato anche l'accesso agli esercizi di vendita consentito ad una persona per nucleo familiare. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso. Sospese nelle scuole primarie e secondarie le lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato, novità poi per bar e ristoranti. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, cioè alle 18, esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o area al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia esercizio unico che con più attività, compresi i parchi commerciali. Nei festivi chiusi anche tutti gli altri negozi, salvo farmacie e alimentari. Il sabato le grandi e medie strutture di vendita, quindi i centri commerciali o outlet eccetera, la domenica oltre a questi chiudono anche tutti gli altri negozi, tranne gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie. Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara. L'ordinanza avrà l'intesa del ministro, con il quale ho parlato stamattina, del ministro Speranza che condivide e c'è un'interlocuzione con il presidente del consiglio per delle misure economiche. L'ordinanza che è stata firmata oggi dal governatore Zaia sarà in vigore fino al 22 di novembre. Ed ora invece il bollettino regionale. Sono 3.459 casi di positività in più in 24 ore e 43 decessi nella nostra regione. Sono 1.900 i ricoveri in area non critica, ovvero 73 in più rispetto a ieri sera. Per quanto riguarda Venezia, 361 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Di questi 221 nella sola giornata di oggi, 5 purtroppo i decessi nel veneziano. Ed ora cambiamo argomento a un anno dall'acqua alta che ha devastato Venezia. Ripercorriamo insieme le tragiche ore di quella notte e dei giorni seguenti, con immagini che il mondo intero non dimenticherà mai. So, guarda, questo è da Garibaldi, ok? C'è un fiume, mi non riesce andare avanti, ho 90 kg che so, sono nascosto qua in Caetta. Erano le 22.51 del 12 novembre 2019, quando Venezia ha visto un numero che mai avrebbe voluto, 187. A tanto è arrivato il picco di alta marea quella sera. Solo una volta si era superato il livello, nel 1966, quando il picco toccò i 194 centimetri. Quei 187 in breve tempo hanno sommerso la città, provocando uno scenario apocalittico, con le onde in piazza San Marco, immagini che nessuno dimenticherà, immagini di una Venezia ferita e impotente. Nel corso della giornata le previsioni subivano continue modifiche, ma non ci si aspettava un simile picco. Si è trattato di un fenomeno raro, impossibile da prevedere. Una commistione di pioggia e vento fortissimo, un incrocio micidiale che ha portato la marea a salire in pochissimo tempo. Quanto è bastato per provocare milioni di danni e così com'è salita, con la stessa velocità è scesa. Indimenticabile l'immagine del vaporetto alla deriva dopo aver sradicato una bricola. Il mattino seguente la città si sveglia in credula e oltre ai danni si contagia una vittima a Pellestrina. Giannino Scarpa è rimasto fulminato cercando di ricollegare i cavi elettrici perché l'isola era rimasta al buio. Nella cripta della Basilica di San Marco, nel momento del picco massimo, si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e dieci di acqua. Quel giorno tutti si sono mobilitati, il sindaco Brugnaro, il presidente Zaia che ha attivato l'unità di crisi alla protezione civile e gran parte della politica nazionale. Il premier Conte è arrivato insieme al ministro De Micheli promettendo che il Mose sarebbe stato azionato quanto prima. Ma quella marea non fu l'unica. Nei giorni seguenti Venezia venne colpita ancora. Mai si erano registrate quattro maree superiori ai 140 centimetri in una settimana. Ma questo non ha piegato la città né i veneziani. Tra chi ha vissuto in prima persona il disastro dell'alta marea eccezionale del novembre del 2019, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nominato poi commissario delegato alla gestione dell'emergenza. Ho cominciato a dare ordine in piazza San Marco senza neanche sapere se avevo il titolo per dargli. Io avevo acquato, mi ricordo che ho preso una signora giapponese che pensava di attraversare la piazza. L'acqua stava crescendo, l'ho ripresa e volevo per la schiena. Aveva trascorso la notte in prima linea di fronte alla più grande acqua alta che ha colpito Venezia dal 1966, il sindaco Luigi Brugnaro. Quel 12 novembre è anche per lui un ricordo indelebile, fatto di tante storie individuali e collettive. Ho in mente delle scene incredibili di ragazzi che sistemavano i libri, di volontari da ogni dove, telefonate dei sindaci, delle istituzioni, sono venuti tutti, maggioranza, opposizione. È stata una comunità, prima locale, regionale e anche nazionale, che si è mossa. Chissà che non perdiamo quella memoria di cosa vuol dire fare le cose assieme, senza nessuna polemica, ringraziandoci e tirandoci sua vicenda. Alla protezione civile a Marghera, la qualta eccezionale di un anno fa è stata ricordata anche dal presidente Zaia, che un fenomeno di quelle dimensioni, ha detto, non avrebbe mai pensato di vederlo. Adesso sembra che il Mose ci metta in salvaguardia, in protezione, questo è già una buona notizia, visti tutti i soldi che sono stati investiti su Mose e su opere complementari, si parla di quasi 9 miliardi di euro tra Mose e il resto delle opere. Sarà un ricordo indelebile, probabilmente non la vedremo mai più, perché se Mose funziona è stata l'ultima acqua grande che Venezia ha conosciuto. Il capitolo Risarcimenti è stato per il sindaco Luigi Brugnaro un esempio di efficienza burocratica statale e comunale attraverso un processo di informatizzazione che farà scuola in Italia, ma alcuni capitoli sono rimasti aperti. Sono arrivati gli aiuti che noi per legge possiamo dare, cioè fino ai 20 mila euro per le imprese e fino ai 5 mila euro per i privati. Sui danni, quelli superiori ai 20 mila euro, cioè i danni importanti, lì la legge non consente un recupero immediato tramite il commissario o tramite il comune. Lì deve essere un'apposita determina fatta dal Consiglio dei Ministri con una legge speciale. E su questo sì, immagino che saranno tempi ancora lunghi, l'avevamo previsto fin dall'inizio. Molti veneziani che hanno subito danni ingenti, parecchi temevano di dover chiudere la propria attività, ma non mancano le storie a lieto fine. Oltre all'acqua 1,87 c'è stato anche il vento, il vento ha fatto sì che l'acqua, l'onda fosse più alta di 5, 6, 7 centimetri. Provare, si immagina oggi con venti di 110 km orari che tiravano qua in centro storico. C'è stato un ciclone. 8 dicembre 2019. Grazie ai vigili del fuoco, l'edicola di Walter Mutti riemerge dalla laguna dopo tre settimane trascorse sul fondale del canale della Giudecca. Oggi, quella che è stata tra i simboli della forza distruttrice dell'acqua alta del 12 novembre scorso, capace di spostare una struttura di quasi 15 quintali, è tornata al suo posto davanti alla chiesa dei Gesuati alle Zattere. Queste edicole sono state progettate appositamente per l'acqua alta. Ha tenuta stagna. Che significa tenuta stagna? Che l'acqua, dopo un certo livello, fa sì che l'edicola si alzi e venga portata via. Quando è stato fatto il lavoro di ripristino della pavimentazione, non hanno voluto il riancoraggio. I risarcimenti? I risarcimenti. Per quanto riguarda la lettera C, i danni fino a 20.000 euro, io personalmente sono stato risarcito. E adesso aspettiamo, fiduciosi, i danni oltre i 20.000 euro. In Cale della Mandola, vicino a Campo Sant'Angelo, c'è la libreria di Alberto Bertoni. Dopo l'acqua alta di un anno fa, ha pensato seriamente che l'attività di famiglia si fermasse con lui. Quanti libri aveva perso? Allora, ho perso circa 28.000 volumi. E come hai fatto a tirarsi solo? L'attività ha cominciato a lavorare e molte associazioni, persone mi hanno dato anche una mano regalando qualche volume e sono riuscito a riprendervi. Dopo il ripescaggio dell'edicola, un amico di Walter Mutti aveva promosso una sottoscrizione di fondi per restaurarla. Un'altra raccolta di denaro organizzata a Ceggia aveva destinato una parte del ricavato alla libreria di Alberto Bertoni, che a sua volta l'aveva girata ad un'altra libreria più in difficoltà della sua. Così come lo scrittore veneziano Andrea Zanetti aveva donato parte dei ricavi dei suoi libri alle librerie della città. Ha ricevuto tutti i risarcimenti? Beh, diciamo, quelli del comune sono stati ricevuti tutti, poi anche grazie all'SAI ci hanno dato qualche cosa e tutto sommato devo dire che ce l'abbiamo fatta. Un anno dopo la notte che sconvolse Venezia, il patriarca ricorda ancora commosso quelle ore drammatiche, giorni immediatamente successivi, le difficoltà ma anche il forte senso di comunità dimostrato dai veneziani, l'impegno in prima linea dei ragazzi. Nella nostra intervista Monsignor Moraglia lancia anche un appello alla salvaguardia dell'area marciana e alle istituzioni ad assumere scelte condivise per il rilancio della città. Un anno dopo il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ricorda così la sera del 12 novembre 2019. Allora io ricordo la fatica, il dispiacere ma anche l'entusiasmo dei ragazzi che si sono subito schierati a favore delle persone in difficoltà, quindi certamente le situazioni difficili mettono anche in evidenza il buono che è in ciascuno di noi. Ora c'è i Mose, ma per proteggere San Marco non basta. Ma è ancora scoperta l'acqua che non arriva al metro e trenta e che però invade abitualmente l'isola di San Marco, la nostra zona, il cuore pulsante di Venezia. Monsignor Moraglia parla questa mattina da una piazza San Marco quasi deserta. Quel ricordo drammatico è stato un po' attenuato dalle vicende successive, parlo della pandemia, in cui questa piazza prima affollata da persone e soprattutto questa piazza che ricordavamo in modo surreale proprio per l'acqua che la ricolmava in tutti i suoi anfratti, è stata coperta da un'altra immagine, una zona, questa qui di San Marco, completamente abbandonata. Da qui l'esortazione del patriarca di Venezia a prendere delle decisioni per il futuro della città. Questi due avvenimenti ci chiedono un colpo di reni dal punto di vista della volontà, della speranza, soprattutto il fatto di condividere alcune scelte per il presente, ma soprattutto per il futuro della nostra città. Dobbiamo viverla come veneziani, dobbiamo sapere che è una risorsa per il mondo, dobbiamo soprattutto combattere contro quella erosione del clima, ma nello stesso tempo dobbiamo anche cercare una vocazione futura per la nostra città, un turismo che quindi deve essere più sostenibile, più mirato, forse più di qualità. Siamo ora alla cronaca, Camorra e Raclea sono stati condannati tutti gli imputati del rito abbreviato, tra loro anche l'ex sindaco Graziano Teso. Si è conclusa con 24 condanne, la prima tranche con rito abbreviato del processo a carico del gruppo dei Casalesi di Raclea. Riconosciuto integralmente l'impianto accusatorio e inflitto un totale di oltre 130 anni di reclusione a carico degli imputati. Tra loro l'imprenditore sandonatese Cristian Sgnaolin, condannato a 5 anni e 10 mesi, Girolamo Arena, 6 anni, Antonio Basile, 12 anni e Antonio Puoti, 6 anni e 6 mesi. Condanna anche per l'ex sindaco ed ex vice sindaco di Raclea, Graziano Teso, 3 anni e 3 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. All'avvocato Marin, accusata di favoreggiamento al boss Donadio, 8 mesi pena sospesa. E poi 5 anni per Moreno Pasquale, il polizzotto che avrebbe fornito informazioni riservate al clan. Le indagini avevano portato alla luce nel febbraio 2019 un sistema di malaffare diffuso e di legami tra esponenti della Camorra originari della Campania, imprenditori e politici di Raclea. Fu arrestato anche il sindaco Mirko Mestre, oltre che bancari, professionisti e rappresentanti delle forze dell'ordine. Per circa 20 anni il clan aveva gestito i propri affari nella zona. Slitta al 2021 la sentenza del processo per la strage della solfatara che vede alla sbarra il legale rappresentante altri 5 soci e la società che gestiva il noto sito naturalistico di Pozzuoli dove il 12 settembre del 2017 i coniugi veneziani di Meolo, Massimiliano Carrer e Tiziana Zaramella e il loro figlio Lorenzo durante una visita. Persero tragicamente la vita. Positivo al tampone doveva essere in isolamento. Invece un cittadino cinese di Noale ha pensato di recarsi al ristorante di sushi. È stato il titolare dopo un'accesa discussione con l'uomo a chiamare i carabinieri. I militari a loro arrivo hanno scoperto che era risultato positivo al covid. Tra l'altro non stava nemmeno bene fisicamente, tanto che è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza che lo ha accompagnato all'ospedale per accertamenti e poi è stato denunciato. Acquistati a Venezia 19 bus elettrici per il Lido di Pellestrina, più altri 8 a metano per la terraferma. Il progetto più atteso è sicuramente quello degli autobus tutti elettrici nell'ex Isola d'Oro. 15 milioni di euro sono solo l'ultimo straccio dell'impegno del Comune di Venezia per migliorare il trasporto pubblico urbano di linea con nuovi autobus che entreranno presto in servizio a Mestre, Lido e Pellestrina. Due le delibere approvate su proposta dell'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso per l'acquisto di 19 nuovi autobus elettrici per l'Ido e Pellestrina che portano così il totale a 30 dell'intero parco mezzi completamente elettrico per le due isole e altri 8 bus a metano per la terraferma. La svolta più attesa è sicuramente quella degli autobus elettrici. È il primo sistema in Italia in linea, quindi durante il servizio dei bus questi si agganciano a dei totem e ricaricano parte della batteria. Le sottostazioni elettriche sono già installate, così come i totem di ricarica. Si sta ultimando la dotazione impiantistica e si prevede la fine lavori entro fine anno. L'ingegner Andrea Ruggero, direttore del settore patrimonio e investimenti del gruppo AWM, spiega che A settembre è stato dato avvio alla prima linea sperimentale che interessa l'isola dell'Ido. La sperimentazione prevede l'impiego di 6 bus a rotazione e via via si stanno testando tutti i bus. Si prevede di testare le intere linee che interessano l'Ido e Pellestrina entro fine anno, quindi entro fine 2020 e i primi mesi del 2021 mettere a regime il sistema. Trasporto che diventerà un modello anche in ambito nazionale. Il progetto è sviluppato d'intesa con l'amministrazione comunale, l'Enel e la sovrintendenza, che ringraziamo in questa sede, e l'aiuto di tutte le amministrazioni competenti del territorio. Stop a tutti i convegni a causa della pandemia che erano previsti nei prossimi mesi. Anche questo è un danno economico molto rilevante per la città che ha visto annullati tutti gli eventi in presenza previsti per l'autunno e l'inverno veneziano. Il presidente della società Vela fa il punto, sarà l'occasione almeno per completare il lavoro in programma nella palazzina dell'ex casino a Lido. Come un colpo di spugna, la pandemia annulla tutti i convegni, congressi ed eventi che erano in calendario per l'autunno e l'inverno veneziano. Anche questa è una mazzata per l'economia della città, in particolare negli spazi congressuali tra il Palazzo del Cinema e l'ex casino dell'Ilo di Venezia gestiti da Vela. Con il periodo della pandemia qualcosa si è fatto, si è potuto fare con le dovute rispetto delle norme sanitarie. L'ultimo DPCM ovviamente ha totalmente abolì, sospeso le attività congressuali convenistiche. Quindi alcune iniziative previste per l'autunno sono sicuramente sospese e adesso vedremo. A consolare, almeno parzialmente, ci sono i lavori in Rex Casino che daranno a Venezia uno dei centri congressuali più importanti d'Italia. Già i programmi erano un po' contingentati in alcuni periodi dell'anno, d'accordo anche con gli operatori congressuali e turistici, perché bisogna assolutamente, il Comune ha dato un'accelerazione importante e fondamentale in questi lavori che erano veramente necessari. Si spera di poter ripartire da Primavera 2021, ma il futuro degli eventi presenta numerose incognite. Siamo assolutamente operativi dal punto di vista del lavoro di marketing e di promozione. Continuiamo ad avere contatti con tutti i grossi convention bureau e con tutte le agenzie che promuovono i congressi più importanti in tutto il mondo, che ovviamente vedono in Venezia una location affascinante, anche se ha i suoi problemi naturalmente. E lo avete sentito nel corso di questa edizione del nostro telegiornale. Un anno fa la devastante acqua alta che ha messo in ginocchio Venezia e colpito l'intera costa alle 21.15. Questa sera su Antenna 3 si riproporà l'Apocalisse a Venezia, il documentario prodotto dal gruppo Media Nord-Est che ripercorre quei drammatici giorni. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone non molla la presa. Venerdì 13 novembre ancora a tempo stabile, clima gradevole di giorno. Nel dettaglio sul Veneto avremo inizialmente nubi basse e nebbie. Le zone più a rischio saranno le aree di pianura in generale, ma anche i fondovalle prealpini. Con il passare delle ore le foschie tenderanno a diradarsi e daranno luogo a schiarite più soleggiate, ancora probabili nebbie dopo il tramonto. Temperature minime in lieve calo tra 1 e 7 gradi, massime invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non si escludono degli addensamenti in mattinata, a seguire invece avremo più sole un po' dappertutto. Temperature minime fino a 8 gradi, massime invece sui 13-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, contesto decisamente più soleggiato qui con cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime sui 2-3 gradi, massime fino ai 12-13 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Grazie a tutti.